Sportello del Cittadino e Ad hoc Puglia insieme per affrontare le tematiche per superare certe difficoltà del consumatore. Quest'oggi ci occupiamo di contraffazione alimentare con l'avvocato Giulia Procino, lei è una dei legali di Ad hoc Puglia. Beh già la contraffazione oggi è tristemente protagonista nei nostri giorni, quando poi riguarda il settore alimentare e quindi comporta dei rischi seri, serissimi alla salute, il problema diventa davvero di notevolissima rilevanza. Sì certo, la contraffazione alimentare non è altro, se così possiamo definirla come la sostituzione di un alimento con uno di minor pregio. Il caso più eclatante è quello per esempio dell'olio di semi che viene spacciato per olio di oliva o è addirittura extravergine di oliva. Addirittura in alcuni casi la contraffazione si verifica anche con la sostituzione di un prodotto che non solo è di minor pregio rispetto a quello invece che si spaccia per originale, ma addirittura è dannoso per l'uomo. Si parla di adulterazione alimentare quando ci si riferisce a quelle operazioni che prevedono la modificazione di componenti di un prodotto alimentare con uno appunto di minor valore. Si può per esempio fare il caso di un latte parzialmente scremato che viene venduto per latte intero. Ovviamente questa è contraffazione in quanto il consumatore viene ingannato perché al posto di un prodotto viene appunto utilizzato un altro di minor pregio. Il census ha dato dei numeri, cioè ha rilevato che il fenomeno della contraffazione alimentare è in continuo aumento. Nel 2014 si sono stati sequestrati più di 2,4 milioni di prodotti alimentari con un incremento di circa il 26% rispetto all'anno precedente, quindi un fenomeno veramente in crescita. Non bisogna dimenticare che la contraffazione è un reato penale ed è infatti punito da quello che è il codice penale all'articolo 473. Infatti l'articolo recita che chiunque contraffa o altera un prodotto industriale, un'opera dell'ingegno è punito con la reclusione fino a tre anni, quindi sanzioni anche rilevanti. E poi puntualizza che chi fa uso di questi beni contraffatti, di chi li detiene per la vendita o le introduce nel territorio nazionale, è soggetto in ogni caso ad una sanzione, che è appunto quella della reclusione, fino a due anni. Sanzioni quindi molto aspre per chi contraffa i beni alimentari.